Con la cultura si vive meglio innanzitutto perché essa insegna la tolleranza. Sentire in automatico una voce che legge i comunicati stampa è il servizio fornito da ReadSpeaker, da poco attivato sul sito internet del Consiglio regionale. Il testo viene letto automaticamente ad alta voce, attraverso un processo che si definisce vocalizzazione. Il nuovo servizio si aggiunge alla versione ad alta visibilità del sito istituzionale, al Tg settimanale tradotto in lis, lingua italiana dei segni, e alla pubblicazione in braille con la descrizione di Palazzo Lascaris proposta ai visitatori.